Quando ci dicono che non ci sono i soldi per costruire dei progetti, dei percorsi, è una questione anche di scelte che devono essere fatte. Non abbiamo bisogno di 95, di bombardieri, qua non ci sono i soldi per dare dignità, per i servizi, per chi fa più fatica. Ci sono delle scelte, ci sono delle scalette, ci sono delle priorità. E la prima priorità è mettere al centro la persona e partire dai suoi bisogni più profondi. Tra questi bisogni c'è anche la libertà e la dignità che passa attraverso il bisogno del lavoro, di un reddito, di essere messo in grado di poter costruire dei percorsi per se stessi, ma anche per i propri o nocli familiari, perché è una famiglia.